Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ci soffermiamo su alcuni esercizi che riguardano le equazioni esponenziali. Io tutta la parte teorica già l'avevo affrontato in un altro video che vi lascio il link qua sopra. Inoltre, spero che argomenti come questi vi piacciono, se così non mi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video che usciranno. Inoltre, se sul mio canale volete vedere qualche argomento in particolare, scrivetemelo pure sotto nei commenti in modo tale che io possa farci un prossimo video. Ora, iniziamo subito con i primi esercizi delle equazioni esponenziali. E prendendo in considerazione un'equazione, andiamo a vedere come i due membri si possono scrivere come potenze di ugual base, ovvero la prima equazione che voglio prendere è 3 elevato alla x che è uguale a radice di 3 fratto 9. Allora, questa equazione la possiamo scrivere. Allora, la radice di 3 lo andiamo a scrivere direttamente come 3 elevato alla 1 mezzo, mentre il 9 lo andiamo a scrivere come 3 elevato alla seconda. Quindi questo lo andiamo a scrivere all'interno della nostra equazione. Quindi 3 elevato alla x che è uguale a 3 elevato alla 1 mezzo fratto 3 elevato alla seconda. In questo caso applichiamo la seconda proprietà delle potenze, ovvero questo 3 elevato alla seconda lo portiamo al numeratore ed essendo una frazione le potenze si andranno a sottrare, ovvero andiamo a scrivere 3 elevato alla x uguale a 3 elevato alla 1 mezzo meno 2. Facciamo i calcoli a destra, quindi 3 elevato alla x uguale a 3 elevato alla meno 3 mezzi, ovvero il minimo comune multiplo. Abbiamo la stessa base, posso studiare direttamente i loro esponenti, quindi è come se andassi ad eliminare le basi, quindi il 3 e mi vado a scrivere che x è proprio uguale a meno 3 mezzi. Quindi questo è proprio il risultato dell'equazione iniziale. Proviamo nel giusto un altro e poi passiamo ad un altro argomento, ovvero 6 per 2 elevato alla x più 3 che è uguale a 4 per 7 elevato alla x meno 2 elevato alla x. Anche in questo caso andiamo ad applicare la prima proprietà delle potenze, ovvero laddove vi è la presenza all'esponente di questa somma me lo vado a sviluppare come un prodotto, ovvero andrò a scrivere 6 per 2 elevato alla x per 2 elevato alla terza. Ovviamente tutte queste proprietà le trovate sempre sul mio canale e io comunque vi lascio il link qua sopra del video in cui avevo affrontato le proprietà delle potenze per quanto riguarda gli esponenziali. Ora ritorniamo invece al nostro esercizio. Quindi quando abbiamo una somma ce lo trasformiamo in questo modo, quindi in un prodotto. La base sarà la stessa e gli esponenti li andremo a scrivere in questo modo. Uguale 4 per 7 elevato alla x meno 2 elevato alla x. Andiamo a fare il prodotto tra i numeretti, ovvero 6 per 8, quindi 2 alla terza me lo scrivo come 8, per 2 elevato alla x uguale 4 per 7 elevato alla x meno 2 elevato alla x. Allora a sinistra andremo a scrivere 48 per 2 elevato alla x. Questo 2 elevato alla x, anzi meno 2 elevato alla x a destra me lo porto a sinistra e diventa più 2 elevato alla x uguale 4 per 7 elevato alla x. A sinistra possiamo vedere che abbiamo la stessa base, quindi è come se noi mettessimo in evidenza 2 elevato alla x e facciamo 48 più 1. Quindi possiamo ulteriormente fare dei calcoli, ovvero avere 49 per 2 elevato alla x uguale 4 per 7 elevato alla x. In questo caso però possiamo vedere che non possiamo procedere come prima perché in questo caso le basi sono diverse. Quindi dobbiamo dividere entrambi i membri per 49 per 7 alla x e applichiamo la quinta proprietà delle potenze, ovvero vado a dividere a destra e a sinistra come dicevo 49 per 7 elevato alla x. Quindi possiamo vedere che al primo membro 49 e 49 si semplifica, al secondo invece 7 elevato alla x e 7 elevato alla x si semplifica. Quindi abbiamo 2 elevato alla x fratto 7 elevato alla x che è uguale a 4 fratto 49. Nel primo membro possiamo scrivere 2 fratto 7 tutto elevato alla x perché sia al numeratore sia al denominatore abbiamo un'elevazione alla x. Mentre a destra andrò a sfruttare le potenze, ovvero il 4 me lo scrivo come 2 elevato alla seconda, il 49 me lo scrivo come 7 elevato alla seconda. Quindi in questo caso abbiamo proprio che le basi sono uguali e possiamo andare a studiare semplicemente gli esponenti, ovvero x è uguale a 2. E questo è proprio il risultato. Andiamo a vedere un'altra equazione esponenziale. 6 per 3 elevato alla x meno 3 elevato alla 2 meno x uguale a 15. In questo caso andiamo ad applicare la seconda proprietà delle potenze, ovvero in questo caso possiamo vedere che abbiamo 3 elevato alla 2 meno x. Quindi avendo una sottrazione lo possiamo andare a sviluppare e scrivere sotto forma di frazione. Andiamo a scrivere 6 per 3 elevato alla x meno 3 elevato alla seconda fratto 3 elevato alla x che è uguale proprio a 15. Questo 3 elevato alla seconda io me lo vado a scrivere come 9, quindi sto andando a sviluppare. Quindi 9 fratto 3 elevato alla x è uguale a 15. Dobbiamo procedere però con una sostituzione, ovvero andiamo a prendere in considerazione che t è proprio uguale a 3 elevato alla x. Mi vado a sostituire questa t all'interno dell'equazione. Quindi abbiamo 6 per t meno 9 fratto t che è uguale a 15. Dividiamo entrambi i membri per 3 e riduciamo lo stesso denominatore che eliminiamo, ovvero abbiamo 2t meno 3 fratto t uguale 5. Questa t me la porto al numeratore, ovvero abbiamo 2t al quadrato meno 3 tutto fratto t uguale a 5t fratto t. Ora, prima di eliminare il denominatore, lo dobbiamo però porre diverso da 0, quindi t deve essere sicuramente diverso da 0. La nostra t era proprio 3 elevato alla x, quindi 3 elevato alla x deve essere diverso da 0. A questo punto lo possiamo eliminare e andiamo a studiare solamente il numeratore che, come potete vedere, è uscita un'equazione di secondo grado. Infatti la andiamo a mettere in ordine e la andiamo a sviluppare. Quindi il 5t lo porto all'altro lato e ottengo proprio l'equazione di secondo grado 2 per t al quadrato meno 5t meno 3 uguale 0. Andiamo a trovare le due soluzioni della nostra t. Quindi abbiamo 5 più o meno, andiamo a fare delta, abbiamo 25 più 4 per 12 tutto fratto 4, ovvero abbiamo 5 più o meno 7 fratto 4. Quindi abbiamo una soluzione che sarà proprio 3, mentre l'altra soluzione sarà meno un mezzo. La nostra t, come dicevamo, è 3 elevato alla x. Quindi io andrò a scrivere che 3 elevato alla x è uguale 3 nella prima soluzione. E poi 3 elevato alla x che è uguale a meno un mezzo. Prima di procedere con i calcoli, quello che subito possiamo dire è che 3 elevato alla x uguale meno un mezzo è impossibile, perché una funzione esponenziale non può assumere un valore negativo. Quindi quando vedete il meno davanti, eliminate direttamente la soluzione. Andiamo a studiare invece il primo caso, ovvero 3 elevato alla x uguale 3 è come se fosse 3 elevato alla x uguale 3 elevato alla 1. Stessa base, vado a studiare gli esponenti, ovvero x è uguale 1. Questa è l'unica soluzione accettabile della mia equazione iniziale. Bene, quindi con questo oggi abbiamo visto un po' tutto ciò che riguarda le equazioni esponenziali. Io spero che sia tutto chiaro e che questo video vi sia piaciuto. Se così non vi dimenticate di lasciare un like ed iscrivervi al canale se siete nuovi. Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!